Il ritorno al Palasichelli Archivi non è stato come società e tifosi si aspettavano e speravano. La Betaland Capodorlando soffre ancora, subendo l'undicesima sconfitta consecutiva in Serie A contro una Dinamo Sassari, autrice di una partita di altissimo livello. I paladini sono partiti forte, ma Sassari ha reagito prontamente e da quel momento in avanti i Sardi non hanno mai smesso di trovare la via del canestro, controllando il ritmo della partita fino alla fine e vanificando ogni tentativo di rimonta degli orlandini, nonostante l'ottimo approccio degli ultimi arrivati Nox, Faust e Licodei. Finisce 89 a 103 e la classifica rimane immutata, con Betaland e Pesaro appaiate all'ultimo posto a quota 10. Abbiamo avuto grosse difficoltà stasera ad arginare la circolazione di pala di Sassari, per tutti i 40 minuti non siamo riusciti a fermare questa emorragia e da lì sono cominciati poi chiaramente i problemi legati poi anche a un fattore di tensione emotiva. Quando vedi che in campo tu non riesci a fermare l'avversario è chiaro che con il passare dei minuti poi dopo l'aspetto emotivo cambia e chiaramente in una situazione come la nostra diventa ancora più complicato. Sapevamo che questa partita era una partita molto complicata contro una squadra molto forte, così è stato. Quello che abbiamo fatto in campo non è bastato, bisogna aumentare le energie, bisogna credere che abbiamo le armi per competere nella lotta per la salvezza. L'inserimento di Justin Hox credo che stasera si sia rivelato un inserimento perfetto. Adesso affrontiamo la settimana che arriverà per un'altra partita contro una squadra di un livello di classifica molto alto, quindi capirete che è vietato abbassare la guardia e bisogna continuare a stringere i denti.